Ciao a tutti ragazzi siamo tornati su WRC7 pronti per affrontare un'altra partitozza in Gran Bretagna allora andiamo a vedere l'itinerario come abbiamo visto l'ultima volta il giorno 2 quello che dovremo fare oggi saranno 10 km 52 con 70% di ghiaia e 30% di asfalto sarà nuvoloso non ci sarà la pioggia in questo caso e che dire andiamo a provare però dobbiamo prima andare a riparare la nostra vettura perché qualche danno la scorsa volta l'abbiamo fatto infatti abbiamo il motore che è un po' in crisi i pneumatici non ne parliamo proprio le sospensioni hanno subito un pochettino l'elettronica ancora posta e la carrozzeria direi che siamo riusciti a fare tutto in 41 minuti di 45 confermiamo le modifiche e andiamo a spararci immediatamente la gara di Gran Bretagna giorno 2 ok qui va a vedere un'immagine con la pioggia ma in teoria non dovrebbe esserci e infatti non c'è dobbiamo stare attenti a queste parti di asfalto perché hanno quel marciapiede famoso che abbiamo trovato nella prima tappa di giorno 1 che è stato veramente pesante perché ogni volta che andiamo su quel marciapiede ragazzi la nostra vettura subisce un bel colpo via si parte ragazzi 20 sinistra piena 40 destra 8 e destra 7 in taglia e sinistra 6 lunga stringi apre e destra piena lunga sude 7 sinistra 6 corta chiude non tagliare taglia 100 non tagliare cacchio sinistra 6 corta destra 5 chiude sinistra 6 corta chiude e sinistra 6 destra piena su cima chiude 7 corta e sinistra 4 lunga non tagliare destra 6 chiude in sinistra 7 non tagliare e destra 4 corta chiude in sinistra 4 corta apre e destra 4 stringi in sinistra 3 chiude non tagliare stiamo facendo la carambola qui ragazzi e destra 5 chiude stringi 40 e sinistra 5 lunga lunga chiude e destra 3 corta chiude in sinistra 3 corta apre stringi e destra 8 e destra 8 e destra 8 e destra 8 corta corta in sinistra 7 chiude 5 non tagliare in sinistra 8 lunga chiude 4 e sinistra 6 lunga apre in sinistra 4 40 destra 6 corta in sinistra 8 chiude 6 molto lunga stringi 40 50 attenzione scicano sinistra corta salita 50 frena tornante stretto sinistro e destra piena chiude in scicano destra e sinistra piena attenzione destra piena chiude secca destra in sinistra 8 in destra 7 60 destra 5 apre non tagliare lunga e attenzione sinistra 7 sudosso contro pendenza 40 sinistra 9 e attenzione secca sinistra destra 7 e taglia stringe 40 destra 8 chiude 30 destra 3 e sinistra 8 lunga su cima salta 60 sinistra 6 su cima salta e destra 6 corta tagliare sinistra piena lunga su cima destra 5 stringi sinistra 8 curta su salta e frena sinistra 3 e destra piena 40 attenzione sinistra 3 curta destra 6 non tagliare stai al centro e stringe su cima salta 50 destra 6 curta tossi in sinistra 8 destra 6 molto lunga apre ringe attraversa e destra 8 curta su cima in sinistra 5 curta 50 e sinistra 6 molto lunga non tagliare e destra 3 su dosso su dosso tornante destro non tagliare ritornante aperto sinistro non tagliare destra 7 su dosso stringi sinistra 6 tornante aperto destro e sinistra 3 molto lunga su cima chiude 2 e destra 7 non tagliare stai al centro sinistra 4 su cima apre 30 e destra 8 tossi e sinistra 7 chiude attraversa e destra 8 contro pendenza su dosso 30 e attenzione salta e sinistra 6 tossi su cima e sinistra 7 apre destra 6 per tagliare 40 destra 8 stringi su salta 30 e sinistra 6 30 sinistra 4 molto lunga apre sui bossi attenzione tornante destro pretta e destra 5 non tagliare 50 sinistra 9 lunga 5 in cima e sinistra 8 molto lunga tossi chiude 3 30 destra 6 su cima 40 attenzione sinistra 6 su cima tossi chiude e salta 30 destra piena 40 sinistra 7 curta in destra 4 su cima apre molto lunga 40 destra 7 molto lunga 60 sinistra 6 ultra tendenza di indosso e destra 5 lunga su cima apre 70 no siamo arrivati ragazzi al 3 guarda abbiamo spaccato il paletto è tutto abbiamo dato 18 secondi al secondo posto e direi che siamo andati veramente 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 bene a parte questo ultimo errore siamo passati in prima posizione con 15 secondi di vantaggio e concludiamo qui la nostra tappa il giorno 2 per passare al prossimo video dove andremo a fare il TS5 e il PS con 5 chilometri e 48 e 5 chilometri e 98 concludiamo qui la partitozza ragazzi grazie a tutti dal vostro ascolto ci vediamo al prossimo appuntamento mi raccomando non mancate spoliciate se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo al prossimo appuntamento ciao a tutti ragazzi complimenti hai terminato la visione da questo momento hai 10 secondi per fare la tua scelta ciao a tutti